Oh, eccoti, buongiorno, piacere. Tutto bene? Ciao, posso seguirti? Sì, certo, sto giusto andando al ristorante. Raccontaci di te, chi sei, che cosa fai? Io sono Filippo, sono una sosse del Global Strategy Group, che è un team all'interno del Corporate Finance di KPMG. Lo so, sembra un po' complicato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Aiutami a capire. Sì. Il Corporate Finance è formato da diversi team, tra cui appunto il Global Strategy Group e il team di M&A. Io ho collaborato con entrambi, focalizzandoli più sulla parte M&A, tramite la quale creiamo il contatto tra acquirenti e venditori durante la compravente di società, individuandone il valore e seguendo tutte le parti della negoziazione. Vieni che ti faccio vedere al ristorante. Quindi è un lavoro sfidante. Sì, è un lavoro molto sfidante. Seguiamo progetti sia nazionali che internazionali e poi soprattutto nei progetti sempre diversi dall'altro. E quanto è importante il lavoro di squadra nel tuo ambito? Beh, il lavoro di squadra è fondamentale. Collaboriamo in team di una quindicina di persone, sia interne che esterne a KPMG, e ciò aiuta a vedere un processo a 360 gradi. Wow, che panorama! Non tutti possono dire di avere questa vista. Il posto è molto bello, l'ambiente è molto bello, c'è molta empatia con i colleghi con cui si collabora e ogni tanto usciamo anche tra di noi dopo il lavoro. Chiudendo, che cosa ti aspetti dal tuo futuro in KPMG? Beh, mi aspetto di imparare molte più cose possibili e di continuare ad accrescere le mie competenze. Grazie! 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 Grazie!